Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore appuntamento. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, del canale YouTube Alessio 912 come canale primo. C'è anche un altro piccolo canale chiamato Alessio Evangelisti, molto diciamo irrisorio. E' anche colui che gestisce il canale Telegram nuovo denominato Notizie Medio Oriente e Mondo Alessio Evangelisti. Trovate il link in descrizione, se vi iscrivete avrete accesso al 90-95% dei video. Se non sei iscritto la maggior parte dei video non si potranno vedere perché Telegram semplicemente non te li mostra per una sua politica interna. Detto questo, bando alle charle, come si dice, e vogliamo inoltrarci immediatamente nell'oggetto che ci interessa. Benissimo. Vogliamo parlare di diverse cose. Parleremo un pochino dell'eugenismo a livello però sociologico. Vogliamo parlare anche del semitismo verso l'antisemitismo, un po' di islam, un po' di storia. Insomma, getteremo delle basi importanti per poter capire meglio, come si dice in gergo, dove stiamo di casa. Bene, capire significa reagire. Tutti quelli che hanno un minimo di razio me lo insegneranno. Ma spesso, prima di capire per poi reagire, bisogna passare per le, come si dice, come ci hanno insegnato i nostri genitori, devi fare le tue esperienze. E quindi ci vuole una crisi. Solamente dopo una crisi ci sarà la reazione. Questo per le masse. Ci sono alcuni pochi eletti che non hanno bisogno di una crisi per rendersi conto e reagire. Ma le masse, purtroppo, devono passare per questo percorso. Bene. E diciamo che sono molti decenni, non meno di venti anni, che troviamo, che sentiamo, almeno quelli che hanno le orecchie attente e informate, che sentiamo la grande voce che recita, arriva un nuovo olocausto, arriva un nuovo olocausto. Sono decenni che si sta dicendo. Così, come la storia ciclicamente, no, si ripete. Infatti, prima dell'olocausto che conosciamo come l'olocausto che si concretizzò dal 1942 al 45, perché è lì che inizia il vero olocausto. La guerra inizia nel 39, ma l'olocausto inizierà, cioè l'eliminazione finale nel 1942, quando, appunto, i nazisti si incontreranno con gli orientali, con i medio orientali, e furono i medio orientali che convinsero e diedero l'ordine a Hitler e company di iniziare l'olocausto, perché in un primo momento non era assolutamente passato per le menti dei nazisti di concretizzare l'olocausto, piuttosto avevano altri piani, quello di cacciare fuori gli ebrei. Questo non significa che non c'erano già delle mattanze in corso, ora qui, ora là, ora nei confronti degli ebrei, ora nei confronti dei non ebrei, ma non c'era nessuna eliminazione totale per quanto riguardava i piani dei nazisti, ma questo è un altro oggetto. Comunque, il primo olocausto fu avvisato da molti ebrei e ci sono anche molti altri documenti dove persino i non ebrei parlavano di questo molto, molto prima. A proposito, mi è stato mandato da un fratello della documentazione, non voglio fare il suo nome, visto il tema delicato, perché non gli ho chiesto permesso. Magari faccio il suo nome pensando di far bene, magari lui non vorrebbe, quindi meglio che non faccio nomi su questi argomenti senza il consenso dell'interessato. E' interessante notare, cari amati, che è vero che ci sono stati sei milioni di ebrei, anche se, per quanto riguarda quelli che lo contestano, questo numero, io non posso far altro che gioire con loro, perché se tu contesti che morirono sei milioni di ebrei, beh, io mi accodo, mi accodo, e lo contesto anche io, ma in modo diverso, invece di dire, come dici tu, che sono stati di meno, io dico, no, sono stati di più di sei milioni, molti di più. Quindi, o ci atteniamo alla cifra di sei milioni, oppure sono stati di più. Ma quello che non possiamo negare è che, oltre ai sei milioni di ebrei, ci sono stati 64 milioni di non ebrei che sono morti nella Seconda Guerra Mondiale, per non parlare di tutte le decine di milionate che poi sono cadute in schiavitù dopo il conflitto, eccetera, eccetera, eccetera. Se noi facciamo un passo ancora indietro nella storia, possiamo vedere la Russia, per esempio l'impero zarista, che in un primo momento anche questo impero zarista inizierà a assassinare ebrei. Ma, se notate bene, così come il nazismo non si fermò unicamente nella massacre degli ebrei, ma andò oltre, uccidendo, assassinando, sterminando 64 milioni di non ebrei, ebrei. La stessa cosa accade con i zaristi. Iniziò con gli ebrei, ma non si fermò agli ebrei, e uccise oltre 100 milioni di persone in circa 100 anni di non ebrei. Interessante. Interessante. Allora, vogliamo parlare anche della inquisizione del mondo cattolico. E avete mai studiato l'inquisizione del mondo protestante? Qualcuno rimarrà perplesso della mia affermazione e gli dico subito di tranquillizzarsi, perché è provocatoria, non esiste un'inquisizione del mondo protestante. Potete visitare tutte le università, le facoltà principali del mondo, non troverete mai una tale aberrazione. No, no, l'inquisizione e le crociate sono roba solo cattolica. Bene, l'inquisizione cattolica, diciamo, la più famosa fu quella del 1942 con Torquemada, dove appunto dalla Spagna iniziò questa grande persecuzione contro gli ebrei, ma non si fermò lì. Andò oltre, persino nei confronti degli stessi cattolici, dei non cattolici, e iniziò a uccidere tutti e ci furono decine, 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 decine di milioni di morti. Insomma, ogni volta che inizia, fateci il caso, una persecuzione nei confronti, scusate, degli ebrei, che è una cosa tristissima, non si ferma mai lì, mai. Vogliamo parlare anche dell'impero romano. L'impero romano iniziò a perseguitare gli ebrei e ne uccise molti, ma non si fermò lì. Non si fermò lì. E infatti, a questa massacra degli ebrei, susseguì un'altra massacra, quella nei confronti dei gentili. Vogliamo parlare dell'impero greco-macedone. Come anche questo, iniziò a perseguitare gli ebrei e non si fermò lì. Concretizzò un massacro anche nei confronti dei non ebrei, cosiddetti gentili. Bene, a questo punto non ci resta che chiudere, scusate il termine, con la ciliegina sulla torta. Vogliamo parlare dei musulmani? Qual è la politica dei musulmani? Uccidi prima l'ebreo, poi uccidi il cristiano e infine uccidi tutti i miscredenti. La storia si ripete. L'inizio sono sempre gli ebrei insieme ai cristiani e poi tutto ciò che non è ebreo. Bene, alla fine, come si concretizzerà questo volere dell'Islam? Molto semplice. Primo ebrei, contestualmente cristiani, poi ebrei per susseguirsi in un nuovo cammino con i musulmani infedeli e alla fine si uccideranno fra di loro, fra sciiti e sunniti, i quali stanno combattendo per l'imperialismo. Sì, perché se tu sei musulmano, qualsiasi cosa offenda l'Islam deve essere ucciso. Quindi, se tu sei sciita, anche se un altro è musulmano come te, ma è sunnita, per te quello è un infedele. Bene, il 7 ottobre 2023 è la prova di quello che stiamo dicendo. Il 7 ottobre è una data molto importante, non solamente per gli ebrei a livello locale, cioè dentro Erez Israel, ma proprio per gli ebrei a livello mondiale, perché il 7 ottobre ha scatenato nuovamente l'onda dell'antisemitismo a livello mondiale e, se la matematica non è un'opinione, insieme agli ebrei vengono i cristiani e dopo toccherà a tutto ciò che non è cristiano. Avete mai notato l'incremento dei musulmani in Europa l'altro giorno stavo camminando per una strada qui di Roma sulla via Prenestina praticamente dovevo andare in una in una via non sapevo dove stava non sapevo dove voltarmi per trovare qualche italiano a cui rivolgere la domanda dove si trova questa via. Sì, perché nella mia testa uno straniero può conoscere Roma magari sì anche meglio di me però come si dice siamo figli dell'epoca nostra e quindi non sapevo dico ma a chi vado a chiedere dove sta sta via che sono tutti stranieri se devo chiedere una via a qualcuno la devo chiedere a un locale infatti poi sono entrato in un negozio una ferramenta e grazie a Dio lo dissi perché non tanto per la nazionalità che poco punta ma vedendo un italiano disse beh questo è italiano sicuramente la conosce sta via qua e infatti non la conosceva come nome ma come posto dove doveva andare infatti me l'ha indicata subito e sono arrivato con dieci minuti a piedi bene e il fatto che i musulmani ormai hanno popolato l'Europa stanno cercando di superare in numero la popolazione europea fu annunciato da loro decenni 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 fa essi ci minacciarono quindi i razzisti non siamo noi essi proprio ci minacciarono a noi europei e ci dissero noi vi conquisteremo vi conquisteremo in un primo momento con l'incremento della popolazione musulmana in terra europea e poi dopo prenderemo il potere con le buone poi con le cattive ma perché i politici lo hanno permesso perché sono stupidi beh oddio non vogliamo pensare che i politici abbiano questo grande quotiente intellettivo ma certamente non è che scoppiano di intelligenza ma comunque i politici possiamo altresi dire stupidi non sono lo sapevano anzi contribuirono a questo infatti se tu noti bene le moschee che si trovano in Europa soprattutto sono state costruite da nazioni che promuovono lo jihadismo perché i politici europei hanno permesso questo si chiama tradimento politica deliberata già a nessun governante in teoria converrebbe che il semitismo che è il contrario dell'antisemitismo prendesse piede perché quando parliamo di governanti vogliamo un attimino bypassare la politica per governanti intendiamo coloro che realmente controllano il mondo e quindi a costoro non gli interessa anzi sono nemici del semitismo perché il semitismo promuove la liberazione i diritti dell'uomo i diritti della donna l'uguaglianza la legge uguale per tutti invece l'islam è il contrario l'islam è sottomissione questo significa certamente il musulmano che vuole nascondere la sua vera faccia ti dirà ma è sottomissione a quello che loro chiamano Allah si ma poi se andiamo a vedere i frutti vediamo bene in cosa consiste questa sottomissione ma di questo ne parleremo fra pochi minuti quindi per l'Europa l'islam non è stato e non è altro che uno strumento di controllo e sottomissione delle masse in Europa una volta che questo si concretizzerà non dovranno fare altro secondo loro poi vedremo che l'arrocco togliere loro e mettersi loro al posto scusate il pronosticismo loro quindi togliere gli islamici che hanno conquistato l'Europa e mettersi loro al posto degli islamici un giochetto facile da intuire se tu noti bene l'islam è sottomissione ma nell'islam sono tutti schiavi non solo le donne che vengono schiavizzate malmenate e quant'altro ma gli stessi uomini sono i primi ad essere schiavi un uomo dentro l'islam che opina diversamente semplicemente viene ucciso cominciando dai propri familiari già islam secondo l'islam diventi apostata dal momento in cui la pensi diversamente e chi ti uccide guadagnerà il cielo e questo fa sì che l'islamico viva nella più totale paranoia o se viene meno alla propria ortodossia o se non è di buona testimonianza e capiamo tutti cosa intendono loro per buona testimonianza vero bene e quindi ogni musulmano è preoccupato di ciò che penserà un altro musulmano oddio se non mi vedono troppo ortodosso potrei essere denunziato bene questo è il pensare in questo modo non è altro che il modus operandi del totalitarismo vedi il nazismo il comunismo sovietico il comunismo in generale il socialismo e tutte le situazioni che promuovono il totalitarismo a tutto questo possiamo tranquillamente dire che le masse non vedono nulla per molti motivi fra cui sono masse distratte dai divertimenti dal calcio dai mass media televisione quindi radio videogiochi lo stesso non mi ricordo ah sì quel famoso ebreo che è uno dei uomini più potenti di israele uno dei primi nella tecnologia a harina non mi ricordo il nome sto andando un po' a memoria disse faremo sì che le masse siano completamente imbevute di videogiochi aggiungiamoci la droga la pornografia chi più ne ha più ne metta e quindi sono masse distratte vogliamo fare un passo indietro negli anni del 1870 50 70 80 maurice jolly scrisse un libro chiamato dialogo agli inferi lo trovate su internet è un dialogo che si concretizza tra il Machiavelli noi abbiamo già parlato del Machiavelli e della sua importanza e Montesquieu bene a un certo punto insomma c'è la rivoluzione francese poi c'è la seconda repubblica francese viene la libertà la democrazia la legge uguale per tutti i diritti per la donna insomma è un'epoca di cambiamenti in senso positivo per le masse e Montesquieu tutto contento si rivolge a Machiavelli e gli dice vedi tutto è bello quel che finisce bene tutto andrà bene da adesso in poi l'uomo l'umanità sarà libero bene e Machiavelli gli dice tu sei un illusso e gli presenta la realtà dei fatti e praticamente gli spiega il Machiavelli che a un certo punto poi i governi delibereranno il monopolio dell'economia faranno sì che la gente non sia informata su come i soldi vengono spesi e questo farà sì che i soldi possano essere utilizzati per comprare per compromettere per controllare e insomma leggete un pochino il libro e gli dice guarda che questa democrazia durerà da Natale a Santo Stefano in poche parole non vuole essere altro che questo lo dico io con parole mie e già l'ho detto da anni che lo strumento dei poteri non solo la massoneria forse possiamo dire perché per certi versi la massoneria è stata addirittura marginale di questo ne ho già parlato e comunque la Fabian Society l'eugenismo palesa questa grande cosa non che la massoneria non sia importante non conti ma certamente ci sono dei poteri ancora oltre i poteri massonici e e quindi questa democrazia non è stato altro che uno strumento e questo io lo dissi lo vado dicendo da molti anni bene e la politica controlla tutto e quando parliamo di politica parliamo di destra di centro di sinistra e quindi se controlla tutto anche i giornali di destra di centro e di sinistra il pan ci incerse bene e per dare un pane diverso ma alla fine sempre di pane si tratta e questo lo disse Jolais Mauriz negli anni dell'ottocento diciannovesimo secolo poi venne Napoleone iniziò appunto a incrementare il il modello e Napoleone perseguito molto questo Maurice Jolais o Jolais come si pronuncia lo perseguito molto confiscò il suo libro e pose in essere una persecuzione contro appunto questa questa denuncia perché si doveva portare avanti appunto la propaganda bene facciamo un passo in avanti e vogliamo fare anche un salto da passare da un continente dall'Europa vogliamo passare un attimino negli Stati Uniti di America 1947 quindi è finita la guerra nel 45 gli USA creano una legge chiamata la legge di sicurezza nazionale e con questa legge viene anche creata la CIA la CIA viene finanziata con con dei finanziamenti praticamente illimitati e alla CIA gli viene permesso di fare quello che vuole e di non rendere conto a nessuno in nome della sicurezza nazionale e gli viene detto alla CIA di controllare tutti quanti governi del mondo quelli che più riesce più ne riesce a controllare meglio è tant'è che c'è anche un libro che io già ne ho parlato da anni or sono confessioni di un sicario e praticamente la CIA controlla corrompe stabilisce i governi di tutto il mondo compreso il governo degli ebrei certamente bene allora la domanda del milione che io ti faccio è la seguente chi governa il mondo chi governa il mondo lo sprovveduto dirà beh i politici e io ti rispondo con molto rispetto ma con un tono con una parola provocatoria tonto se tu pensi che a governare il mondo siano i governi sei un tonto uno stupido a livello patologico ti faccio una domanda perché una domanda risponde a un'altra domanda di chi è la sovranità monetaria di chi è prima dell'euro di chi era la lira dei privati fu privatizzata negli anni 90 ci fu anche la storia di Giacinto Auriti che fu l'unico che denunciò questa cosa qua poi con l'euro salvaticello l'euro è solamente unicamente tassativamente che dei privati non è sovranità nazionale monetaria benissimo ritorniamo un attimino in Europa perché non possiamo parlare di Europa senza Nord America e viceversa Londra Gran Bretagna nell'Ottocento nasce diciamo che si concretizza la Fabian Society e l'eugenismo quindi conosce la storia per capire le notizie che riceviamo e capire il presente eugenismo è una ideologia di sinistra socialista del movimento socialista del movimento comunista ed è questa ideologia che farà nascere il nazismo tedesco attenzione perché quello che ascolterete qui è molto importante bene e questo movimento politico dell'eugenismo diventerà il movimento sociale politico più importante del ventesimo secolo soprattutto negli Stati Uniti di America molti promotori dell'eugenismo negli States molti tra alcuni di questi spiccano dei nomi tra cui Rockefeller Harry Ford Andrew Kern Carnegie non so come si pronuncia bene nel nel 1800 quando nasce questo questo movimento ha sempre asserito questo movimento di avere la superiorità della razza perché perché erano di discendenza tedesca germanica quindi l'eugenismo dice che non solo loro hanno la superiorità della razza ma che la superiorità della razza si trova nella razza tedesca germanica già e tutte queste persone che abbiamo nominato che verranno dopo Rockefeller Henry Ford insomma tutti i più grandi magnate americani che controllavano l'economia americana in parte del mondo vedi anche Rothschild vantavano una discendenza tedesca interessante questo negli USA nella prima metà del ventesimo secolo in nome di questa ideologia furono uccise assassinate quindi incarcerate centinaia di migliaia di persone furono sterilizzate alla forza e quant'altro nel 1920 prima della seconda guerra mondiale avete mai sentito parlare del School and Bonds della Yale University dove nella tomba che si trova dentro questa università tomba di iniziazione c'è una scritta in lingua tedesca perché in lingua tedesca perché coloro che fanno parte di questa setta da dove sono usciti fuori una infinità di premier nordamericani ex presidenti e uomini di potere degli Stati Uniti di America già avete mai sentito parlare delle leggi di Norimberga del 1935 bene furono copiate dalle precedenti leggi legali che già erano in essere negli Stati Uniti di America in nome di tutto quello che abbiamo detto quindi gli USA gli Stati Uniti di America sono i leader a livello mondiale per quanto riguarda la sua esportazione a a livello preponderante nelle altre società gli USA furono i leader dell'eugenismo per molti versi ti facevano delle domande per esempio che noi oggi reputeremo stupide ma che per loro non lo erano 150 anni fatti chiedevano le regole del tennis che potevano giocare solamente i ricconi e la gente del popolo che ne sapeva delle regole del tennis e chiunque non rispondesse a queste regole praticamente veniva incarcerato veniva reputato un retrograde una razza inferiore e così ragionano costoro sembra che quello che stiamo dicendo sia una barselletta è storia e i dati sono pubblici i libri di storia parlano di queste cose ci sono le denunce e quant'altro hanno fatto dei documentari addirittura a tal proposito le grandi elite europee tutte possono dimostrare la loro discendenza germanica tedesca questo perché come nasce come nasce questo fatto che improvvisamente questi questi germani questi tedeschi sarebbero la razza eletta come ci sono arrivati costoro a questo ragionamento macchiavellico pazzo già ne ho parlato in un piccolo audio che ho fatto nel canale di telegram che adesso l'ho caricato anche su youtube nell'antichità c'erano i romani l'impero romano l'impero dellitte secondo le menti malate e coloro che erano superiori e poi sono scomparsi l'impero romano è scomparso ma siccome c'erano avevano creato dei campi nelle province quindi nei territori germanici ok quando l'impero romano cessa l'elite germanica prende questi questi campi prende l'eredità di questi campi bene e praticamente si auto attribuiscono l'eredità degli antichi romani di questa grande elite secondo loro e loro diventano i nuovi eletti infatti in Alta Italia furono i germani a prendere il territorio Francia Germania Paesi Bassi e molti altri posti anche in Nord Africa eccetera furono presi per esempio dai franchi dalle tribù germaniche nella Scandinavia furono gli anglosassoni tribù germaniche normandi tribù germaniche anch'esse tutti i governanti dell'Europa occidentale erano germanici gli stessi USA vengono conosciuti come gli anglosassoni che altro non sono che dei germanici tutte le case regali europee sono di origine tedesca Londra che nel 1942 si cambiò il suo nome il suo cognome in Windsor in realtà loro erano i Sassonia Gotha Coburgo che altro il loro vero cognome è quello dei Windsor che altro non sono che delle tribù germaniche ma che non potevano siccome in quel momento apparentemente stavano combattendo i tedeschi non potevano avere un cognome tedesco e se lo cambiarono nel 1942 in Windsor il re Edoardo VIII del Regno Unito disse non c'è in me una sola goccia di sangue che non sia tedesca interessante nella aristocrasia britannica vi era molta stima quindi per i nazisti già perché l'eugenismo che era un prodotto britannico ok vedeva nei nazisti un prodotto del loro lavoro valga per l'onasticismo e quindi i grandi industriali americani che anche essi appunto poi da londra l'eugenismo questo movimento politico andò in america e fu adottato soprattutto da chi controllava l'economia i grandi industriali già denominati poc'anzi cominciarono a finanziare il nazismo quindi vediamo che il nazismo di destra apparentemente non è altro che un prodotto della sinistra quindi pan di destra pan di sinistra chiamalo come vuoi destra o sinistra ma è sempre pane wow a proposito avete io fatto un video qualche anno fa parlando di Amalek vi ricordate Hamman di Esther l'agagita ebbene Agag era re di Amalek per gli ebrei Amalek è sempre stato Germania tant'è che ci sono stati dei rabbini che hanno profetizzato che un giorno Germania la Germania avrebbe concretizzato lo sterminio degli ebrei e così è avvenuto ci sono le profezie qualcuno dirà come può un rabbino profetizzare questo è scritto nell'antico testamento ma adesso non fa parte del presente oggetto bene di cosa parla la Bibbia di tante cose è vero ma uno dei messaggi centrali della Bibbia è l'amore cominciando dalla Genesi dal Bereshit fino all'Apocalisse è l'amore sopportare ok e quindi già nell'antico testamento cominciamo a vedere che vengono date le regole della schiavitù perché perché abolirla tutta insieme adesso non è parte dell'oggetto ma quindi viene regolamentata ma per dar dei diritti agli schiavi per non far soffrire lo schiavo ed è stata l'unica nazione al mondo sulla terra che dava dei diritti allo schiavo e così via discorrendo e poi pian piano pian piano pian piano con il Nuovo Testamento fu la base per distruggere tutto ciò che è schiavitù mancanza di diritti nei confronti dell'uomo della donna uguaglianza e quindi qualsiasi nazione avesse abbracciato la parola di Dio avrebbe abbracciato questi principi di uguaglianza per tutti quanti diritti per tutti quanti pariteticità uomo e donna votare e così via discorrendo bene voi potete immaginare con coloro che controllano la moneta quindi il mondo quanto possano essere contenti di questo vero bene non sono affatto contenti facciamo un passo indietro vogliamo parlare della chiesa cattolica la chiesa cattolica è una chiesa fondata dagli imperatori dagli imperatori di Roma vi ricordate il primo concilio ecumenico Nicea tra i 25 che lo concretizzò un imperatore romano chiamato Costantino e quindi praticamente la chiesa cattolica rispondeva agli interessi dell'imperatore dell'impero romano e poi quando l'impero romano cesserà intorno al 400 e qualche cosa non me lo ricordo adesso non l'anno esatto questo impero romano questo impero romano continuerà underground attraverso la chiesa apostolica cattolica romana interessante questo se voi se voi fate caso all'operato della chiesa cattolica apostolica romana è che nei millenni nei secoli diciamo bruciava a vivo chiunque leggesse o traducesse la bibbia perché perché impedivano la libertà e la conoscenza rende libero l'uomo ma poi a un certo punto quando nasce la stampa nel 1500 ci sono le non le prime ribellioni le ribellioni nella chiesa cattolica nel mondo cattolico ci sono sempre state ma non mai erano riuscite a concretizzare la libertà ma nel 1500 invece questo si concretizzerà a livello planetario per la prima volta e quando iniziano a leggere la bibbia la prima cosa che fecero quelli che leggevano la bibbia chiamare il papa anticristo questo è molto importante quindi la domanda del milione è cosa ci conviene il semitismo o l'antisemitismo il semitismo biblico la bibbia o l'islam questa è la grande domanda del milione e quindi cari amati io vi volevo dare tutte queste informazioni certamente vi volevo dare queste informazioni perché conoscendo la storia anzi se facessimo un salto indietro ma lunghissimo fino al 2400 Cristo con Sargon per parlare un pochino del semitismo e delle origini del semitismo da dove viene Abramo poi da Abramo nascerà il popolo di Israele la legge la Torah e così via discorrendo questo è molto importante e quindi in questo momento c'è una guerra una guerra che l'elite che ha controllato il mondo vedete anticamente c'era l'impero cattolico che controllava questo poi vi furono le insurrezioni la massoneria la Fabian Society questi pensieri che appunto si contrappongono alla chiesa cattolica che iniziano a contendersi il potere poi i cattolici che infiltrano tramite i gesuiti ma non solo queste 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 società segrete queste a sua volta queste società segrete che infiltrano il mondo cattolico che vanno appunto a lottare per il potere in mezzo ci siamo noi ci sono le masse che non devono conoscere nell'antichità semplicemente il mondo cattolico proibiva la traduzione dei sacri testi oggigiorno praticamente ci distraggono con le cose di questo mondo le quali già abbiamo nominato è interessante notare come il cattolicesimo ha sempre per esempio nascosto la Bibbia la parola di Dio tant'è che se voi ricordate bene chi conosce la storia anticamente non c'era il codex Sinaiticus perché non era stato scoperto adesso sto improvvisando tutto amati ma c'era il codice Vaticano il codice Vaticano non era disponibile non era pubblico ma a un certo punto si viene a scoprire il codex Sinaiticus che addirittura è precedente al Vaticano a quel punto il cattolicesimo renderà pubblico anche il codice Vaticano ma non ce ne facciamo più nulla non ci interessa più a questo punto il codice Vaticano perché abbiamo il Sinaiticus che è precedente e la domanda del milione è come mai la Chiesa Cattolica che ha la probabilmente penso sia la più ricca biblioteca del mondo nessuno sa quello che si trova in quei documenti perché nasconde la storia per quale motivo perché chi controlla il mondo e il mondo viene controllato dalla Chiesa Cattolica e antagonista alla Chiesa Cattolica questi alti poteri infatti in Apocalisse 13 troviamo questi due poteri uno il potere politico l'altro il potere religioso il potere politico che sono queste persone qui l'eugenismo la Fabian Society la massoneria che da dove viene questa bestia e poi c'è il potere religioso che altro che non vuole essere che la Chiesa Cattolica bene tutto si è concretizzato in un primo momento era la Chiesa Cattolica che deteneva solamente il potere ma questa figura della bestia ancora questo potere non era in essere ma germoglierà a suo tempo come un albero e questo è avvenuto soprattutto grazie a quello che è successo con il Risorgimento e poi nel 1819 secolo conosce la storia per capire il presente e per capire le notizie che riceviamo e quindi ti rilascio con la domanda del milione cosa ci conviene a noi il semitismo o l'antisemitismo o l'islam l'antisemitismo non ha ucciso solo gli ebrei ha ucciso anche i non ebrei in numero cento volte superiore io concludo qui questo breve podcast con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti grazie per l'ascolto se Dio vorrà ci si vedrà al prossimo podcast Shalom Maranatha Baruch Hashem grazie a tutti